Yeah, no Io avevo pensato a questo Allora, il fatto è che tu vuoi indossare occhiali in tutte le scene? Anche perché senza occhiali non mi ci vedo molto, dico la verità Ok, perché essendo l'ambiente chiuso non vorrei che poi, diciamo, si appesantisse troppo il volto, no? Siamo in casa, non so se altro punto può stare su Come procede qui col trucco? Abbastanza bene, devo giusto truccare altre tre ragazze Ti piace sto capello? Madonna E io l'ho detto, non lo faccio pure il mio barbiere quando è tornato a Napoli È troppo forte Ma questo è il tuo colore degli occhi? Calcola, pensavo avessi delle venti a contatto Assurdo C'hai degli occhi assurdi Tu conosci Princess Nokia? Sì È uguale a Princess Nokia È impressionante È vero Tu chi carica? Sì Anche se ultimamente sto lavorando per le Seatmart Valenciaga, ho fuori, hai detto, fai troppo una mischia incredibile, quindi mettici una bandana su Guarda che l'ha scritto Valenciaga proprio qui Si è scritto Parmene o quello che si Ma mi ha troppo da l'insalata E diteglielo anche alle altre Non scarpe, non tacchi Le dovete mettere l'intimo Allora ci siamo quasi, qual è il problema? Cosa manca in questo outfit? Le scarpe Hai mai visto questo? Sì Hai mai visto come si usa? Sì Devi usarlo per finta Tu gli metterai la schiuma da barba sul viso Qui già ce l'avrà quindi tu farai finta E tu gliela leverai Ogni volta la dobbiamo rimettere Ok Quindi se lo faremo più volte Lui e mezzo poi state, te lo guardate così e fate questa scena Ma c'è qualcosa di diverso? Non lo so C'ho la F Musch Probabilmente è quella E io nel frattempo canti, però qua non ti puoi muovere Eh giustamente Qua è proprio statica Ma non è la stessa cosa Io anzi direi, facciamo prima questa dell'asciugamano che non ce l'hai E poi dopo ti faccio mettere da lei la schiuma da barba di base e loro fanno finta Ok? Ma che stiamo facendo qui? Eh vorrei saperlo purino Ho iniziato a fare anche la barbiera io Ma no, non mi fa paura che la metta però Tanto è finta, dai che ti preoccupi Così dicono Pure nel corpo hanno ucciso Chi è? Chi era? C'è chi c'hanno no? Bruce Lee Ma chi hanno ucciso il tuo corpo? Per sbaglio che è partito il tuo colpo? Tuo figlio è Bruce Lee È partito il colpo? Qua siamo sicuri che non parte la lametta Napoletano senti bene l'accento Baby come fa Prima cosa ci manda stu lo capo Mi dice che chiede solo fumar Ma ci saranno appunto altre pedazze scusate mi ho dimenticato Pizza Due piatti di pasta La caprese Come sto sto lì? Buono devo dire approvato Ma sì Magnonata Forse una cosa su un ripiano più alto o due sarebbe bene Per tagliare un po' di dinamicità Cioè la profondità capito? Sì Stiamo un po' stretti con i tempi però sta andando benissimo in vita Sono tutti soddisfattissimi Ah già perché poi Si è reagirato un po' Stamattina per guai Otto Madonna Tutta la villa Eh? Vero? Tutta la villa St'ha già detto? St'ha già Ma che colore? Verde? Sì come la Lamborghini Cambiata Dovamo riprendere da là verso di qua E metterla riprendiamo da qua verso di là Abbiamo 20 minuti di luce Abbiamo aggiunto i due tubi a sfera Dello stesso colore della macchina Lui rimaccia lo stesso colore con i dettagli di questo outfit E... Ce la portiamo a casa Sto tranquillo Un commento per questo video Incredibile Anzi come dico io Biblico Un'anima chiara che fa impazzire me E creare Buio E sta succedere qui Sta succedere Sta succedere Sta raffa Ampostata? Lei è l'unica Cioè Oh, ampostata Eeeeeeeh Ma ma è certo Ma guardate Ma guardate Allora, allora di Tu di Che qua devi dare il meglio di te Perché ci sono quattro culi a umbler Quindi Insieme fanno Delle foto epiche Bibliche Chi mi sta salutando? Che Gesù sia con te Dai il massimo Si 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 Ma metta a saltare Faccio le capriole Ci sta Ci sta Commenti a caldo Commenti a caldo Quasi è scontata dal loro diviso Eccolo Avrà al contrario Parla da sola Stai inquadrando? Si si Non direi che parla Rimettetevi come stavate prima Allora questo applauso che stiamo per fare Va alla produzione A tutti i partecipanti che sono stati oggi Alla compagnia A tutti i momenti che abbiamo passato oggi Al team che è una bomba E al successo che sarà il video Quindi Viva Gesù Allora Allora